Ma non mi esce mai nessuna carta buona. E lascia stare, ma tu ti lamenti sempre, c'è boh. Pronto? Ciao Andre, come stai? Tutto bene? Ma senti un po', hai studiato per la verifica di matematica? Domani ci sta la verifica? Eh, sì. Ok, grazie, ciao ciao. Cioè, però domani ci sta la verifica. Grazie.